Ciao creatura Io sono Eka di Splendente Benvenuta o bentornata nel regno di Kusai E S M A Come hai già letto dal titolo abbiamo deciso su Instagram Cioè tu creatura tu lo hai deciso su Instagram Avevo fatto una storia dove chiedevo dove dicevo annunciavo il fatto che avevo trovato Questi M&M's ripieni di Augusto Browning come si può leggere da qui Edizione limitata, li trovate a Lidl Bella anche il packaging viola, è molto bello E erano in offerta e quindi ho detto vabbè dai non li ho mai assaggiati Era da tanto che avrei voluto fare un video assaggio Visto che è un pezzo che penso che vorrei riportare sul canale I video assaggi, metti un like se ti piace l'idea E quindi andrò poi alla ricerca di cibo strano nei vari mercati orientali o nei siti americani Così così così, se appunto ti piace l'idea così poi possiamo assaggiarli insieme Nei vari video ASMR o negli shorts anche perché no E niente, quindi appena l'ho visti facendo la spesa ho detto Mi sembra un'ottima idea acquistarli per assaggiarli in un video rilassante E sto cercando di parlare lentamente Perché anche io trovo che i video con la parlata più lenta Siano molto 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 più triggerosi Però è molto difficile per me Perché io ho una parlata velocissima normalmente E perché ho tante cose da dire E perché anche il mio modo di essere un po' Nonostante io faccia rilassare gli altri Nonostante quando gli altri interagiscono con me Non solo nei video ma nella vita di tutti i giorni Siano a loro agi, se pensino anche che io sia tranquilla Ma in realtà io sono agitata E parlo a macchinetta, no? E quindi se invece non parlo Allora sto proprio male Sono nel panico, cioè proprio mi dissocio totalmente Io non ci sono, non ci sono, non sono lì nel momento Non ci pensiamo Pensiamo a quanto è buono il cibo Che me ne sono privata per troppo tempo E adesso bisogna recuperare questi anni persi, ok? E quindi andiamo all'assaggio Ovviamente dopo 5 minuti di platerare, platerare, platerare Cercando di parlare in modo innaturale per me Perché non capisco È troppo lento, non ce la faccio Allora Non lo faccio neanche bene Allora sto leggendo la confezione di 176 grammi Secondo me questa confezione costa di più E anche più piccina Di quelle normali Brownie MMS Con un MMS Marrone Con in mano un MMS E una teglia di brownie Brownies Brownie? Non lo so Descrivevo questa illustrazione E qui ci fa vedere Qui ci fa vedere un MMS aperto E sembrerebbe che all'interno ci fosse proprio una parte morbida Tipo torta Vediamo Purtroppo sto notando che La confezione sembrava Una di quelle che hanno tipo apri e chiudi Invece è solo apri e mangia Ora c'è L'apertura facilitata Ma Ho paura di Come si dice in dialetto veneto Sprecare tutto Ok Ci proverò lo stesso In realtà Poi ho delle forbici con cui posso Tamponare la situazione Allora il profumo è buonissimo Ma Odora di Smarties Quindi Mi è venuto un flashback Mi sono ricordata di Eh Di Smarties che avevano quelle confezioni Rettangolari Tipo Porta Fiammiche E scatole di Fiammiferi Con Tutti Dei giochini Che se li univi Tutti insieme C'era tipo il percorso Le cose lì Belle Quelle confezioni Mi piacevano molto Allora All'interno Sono tondi Proprio tondi a pallina E sembrano La versione Tarocca Che trovi Nei Discount Dove Tra l'altro Le lettere Non sono tutte M E Tipo Ti faccio vedere Di solito Gli M Originali Hanno Tutti la stessa dimensione Invece qua C'è uno piccolino Arancione Senza nessuna lettera E qui C'è uno Rosso Con una M Qua Non c'è proprio lettera Questa è scolorita Ma Può essere che si salvino Con la faccenda Dell'edizione limitata Però Cioè Qua è talmente Trasparente Che si nota Sotto La parte Ciuccolatosa Può non sembrano Originali Però sì Sicuramente Lo saranno Però Boh Non lo so Allora Quelli piccoli Non hanno La lettera C'è No dai Sono tutte M Solo che sono Iper scolorite E quindi Tanti non ce l'hanno Tanti sembrano Altre lettere Perché la M È scolorita Da qualche parte E quindi Sembrava altro Vabbè Non sembrano Originali Però sì Ovviamente Lo sono Però appunto Sembrano Delle versioni Degli MMS Riuscite male Però Schiaffiamoci Sopra Una edizione Limitata E diventa Tutto molto Speciale Vabbè Basta Li assaggio Parto subito Con quello Grosso Degli Allora Per quanto riguarda il gusto Sanno un po' Cioè se mi avessero detto Mangiali ed escrivili Senza sapere che dentro c'è il brownie Ti direi che sanno di cioccolato Ma anche di caramello E Assomigliano agli smarties Come gusto Ma c'è qualcosa di diverso Grazie al G.A. C'è brownies Sì Ma non sapendolo Direi appunto Che assomigliano agli smarties Con qualcosa di diverso Un gusto Tra il cioccolato fondente E il caramello Perché non sono dolcissimi Ma allo stesso tempo Hanno quel retro gusto Che Quando mangi il caramello Senti molto dolce Ma anche dopo Ti lascia Una specie di sapore amaro Quindi per questo Penso al cioccolato fondente E al caramello Insieme Insieme La consistenza Allora c'è questo Sottile Strato di Zucchero La parte quella colorata Che è croccante Ed è dolce Molto sottile Perché C'è Anche se sono piccini Hanno tanto ripieno Di brownie Che è Gommoso Allora Io me lo aspettavo Più Una consistenza Da torta Però Se ci pensi Se noi Anche se noi Prendessimo Un piccolo Piccolissimo Pezzo di torta Non sarebbe Sofficio In bocca Perché è piccolo Quindi cosa fa L'hanno compattato Per metterlo dentro Nel piccolo MMS Quindi ha una consistenza Un po' gommosa Abiccicosa Si abiccica un po' i denti E Un po' Un po' dura Ma lo stesso Un po' morbida Perché comunque Quel morbido Duro Tra virgolette Gommoso Ma non gommoso Come una Caramella gommosa E' proprio come Una pallina Di un Muffin Di una cosa così Commerciale Qualcosa Che compri Già fatto Nel complesso Nel complesso Sono molto buoni Non li comprerei Perché non sono nulla Di speciale Sicuramente Sicuramente Li finirò Anzi in realtà Devo farli assaggiare Anche un'altra persona Però Diciamo che Sono buoni Ma non li Comprerei Mi piacerebbe Trovare quelli Al cocco Che mi sembra Che esistano Se non li ho sognati Se non li ho sognati Però adesso Quelli All'arachidi Quelli tipo Smarties Con solo il cioccolato Che quelli Al bravo Però appunto Non so neanche Quanti ne esistono Onestamente Comunque Questi esistono Quelli al cocco Che mi pare Di sì Io li vorrei Troppo Secondo me Hanno del potenziale Quelli al cocco Quindi devo assaggiarli Mi è venuto Un flash E Quelli La parte centrale Dei bravi Mi ricorda molto I muffin Al cioccolato Quelli proprio Tutti marroni Di Telly Quindi se avete mai mangiato Quei muffin Immaginate Un MMS Tipo Smarties Con quella Consistenza Sapore Buoni Buoni però Ovviamente Io con Grandi Aspettative Mi immaginavo Qualcosa Di diverso Che non era comunque Fattibile Perché La nostra Immaginazione Supera sempre Però Buoni Insomma Mi è basto la pena Provarli Penso di sì Però non li Comprerei Di nuovo Preferirei Comprare Qualcosa Di diverso Cioè Nel senso Un altro gusto Comunque Voi Voi li avete Assaggiati Tu creatura Li assaggiati Sì sì Fammelo sapere Con un commento Lasciami un bel like Così Inizio Ricomincio La serie Di assaggi E Io ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao Creatura Buon relax